buongiorno a tutti e a tutte voi da andrea cartotto molti molte tra voi mi conoscono perché al di là dell'essere docente esperto di didattica digitale mi reputo soprattutto ed è un titolo che mi sta molto a cuore amico amico affezionato di tutto l'istituto comprensivo di pietra ligure permettetemi di rivolgere un saluto a voi famiglie presenti alle autorità scolastiche alle autorità civili alla cara dirigente scolastica la dottoressa giusimanno dell'istituto comprensivo a tutti i colleghi presenti da anni collaboro veramente con con affetto con il comprensivo per innumerevoli attività didattiche che abbiamo fatto con ricaduta sul territorio con ricaduta soprattutto su quello che ritengo essere il bene per noi tutti più prezioso i nostri ragazzi abbiamo svolto svolgiamo regolarmente attività didattiche legate alle competenze digitali alla cittadinanza digitale alla robotica educativa e a quello che si chiama coding un ambito cioè che riguarda quelle attività che vengono svolte per imparare a ragionare a superare degli ostacoli a risolvere delle difficoltà purtroppo non mi è possibile essere con voi ora per questa bella inaugurazione del nuovo nuovissimo ambiente digitale presso la scuola primaria di tovo san giacomo ahimè un impegno familiare concomitante insomma mi ha impedito di portarvi il mio saluto dal vivo ci tenevo molto molto però insomma a esprimere alcune parole sicuramente di apprezzamento ma soprattutto di condivisione del lavoro attento mirato che sicuramente tutto l'istituto comprensivo ha voluto svolgere in questi anni perché l'educazione è sicuramente il motore di tutte le nostre azioni ci insegna ad essere cittadini ma soprattutto persone migliori e l'anno scorso in occasione della giornata internazionale dell'educazione unesco ho ricevuto il privilegio il grande onore se me lo permettete di essere nominato learning hero questa espressione apparentemente altisonante in inglese per il nostro paese per l'italia scelto cioè tra i docenti italiani che si sono distinti per meriti sul campo se mi consentite una espressione un pochettino informale e allora credo che l'inaugurazione di un nuovo ambiente all'interno di una scuola sia sicuramente un evento da da segnalare da condividere soprattutto perché ci dimostra l'importanza l'attaccamento del territorio alla scuola e della scuola al territorio una tecnologia digitale un robot un personal computer perché no le lezioni mirate che svolgiamo con i nostri ragazzi per incentivarli a cogliere le migliori opportunità della rete della tecnologia sono sicuramente tasselli importanti della loro formazione e della loro crescita la tecnologia non può mai essere fine a se stessa ce lo ha insegnato e l'italia in questo senso è stata davvero pionieristica una figura gigantesca come quella di adriano olivetti tutti pensiamo che il computer la tecnologia affondino le radici all'estero quando invece il primo computer da tavolo al mondo lo abbiamo inventato noi in italia un imprenditore che ha coniugato impresa etica e sociale quale adriano olivetti ha pensato e voluto la realizzazione del p 101 tuttora esposto peraltro a villa casana ad ivrea che è stato persino usato pensate per gli studi poi mirati per la missione apollo 11 insomma per l'allunaggio l'uomo sulla luna allora non vorrei lanciarmi in un paragone azzardato però credo che nelle piccole località la scuola una qualsiasi attività missione educativa assuma un ruolo ancora più più bello e più prezioso perché se il futuro è quello veramente in cui crediamo è rappresentato dai nostri ragazzi ognuno di noi a qualsiasi età qualunque sia la sua esperienza di vita o professione può e dà la forza di seminare di seminare nelle nuove generazioni qualcosa che rimanga e che faccia sì che la tecnologia sia sempre sempre di più umana e al servizio del progresso il progresso quello vero che coniuga la mente ed il cuore viva il nuovo ambiente digitale leonardo da vinci della scuola primaria di tovo san giacomo all'interno dell'istituto comprensivo di pietra ligure un grande abbraccio di vicinanza un impegno che si rinnova e una presenza affettuosa che è per me un grande privilegio non farvi mai mancare poiché sento sempre la vostra amicizia la vostra vicinanza e credo che la nostra liguria abbia proprio bisogno di questo abbiamo bisogno di spazi di tecnologie ma soprattutto di un sorriso e di nuove occasioni di apprendimento da offrire ai nostri ragazzi vi lascio a questa bella inaugurazione e ci rivediamo presto in presenza a distanza o in qualunque altro modo sia possibile essere vicini ad andrea cartotto ancora un saluto e bravi viva tovo san giacomo viva l'istituto comprensivo di pietra ligure